salve buongiorno buongiorno a tutti voi e come promesso siamo arrivati all'inizio di settembre a presentarvi la rubrica parliamone con lucia prima di parlare di tante cose prima di adentrarci in questa rubrica parliamone con lucia voglio presentare lucia vitello 49 anni vivo a torre del greco provincia di napoli napoli l'ho porto nel cuore veramente un napoli se fossi fuori mi sa fuori napoli mi sentirei male perché io sono napoletana e quindi anche se sono della provincia però ho lavorato tanti anni a napoli e mi sento napoletana voglio parlare un po di me io ho un figlio solo che vive a milano che saluto ciao sabio e sono io lavoro praticamente in questo lavoro da vari anni perché è nato questa capacità di fare un gioiello sono tanti i motivi i motivi sono principalmente che lucia vitello ha visto il fondo tanti anni fa il fondo come tutti voi credo è non c'è una persona che non abbia sofferto credo nella vita vuoi un motivo motivo familiare lavorativo di soldi di danaro o di tante cose beh lucia vitello non la vedete oggi così ma un tempo purtroppo ha visto il bassi fondo non dovuto a me purtroppo e non ci voglio entrare per non offendere nessuno anche le persone che mi sono state vicino però da lì è nata la voglia un riscatto alla vita e quindi ecco io lavoro facevo tutt'altro lavorare un'azienda navale settore chartering dove purtroppo ecco le navi all'epoca i noleggi si ribassarono così tanto che l'azienda navale dove ero ha perso tante navi e io da lì è nata la voglia di cambiare e di sì a quest'età non voglio più dipendere da altri anche perché ero consapevole delle mie capacità dico la pura verità quello che dico sempre a tante amiche a tanti amici a tanti conoscenti avevo tre tecnologie di spinte dentro di me il gioiello la ceramica vietrese non so se la conoscete sicuramente che è molto rinomata e praticamente il filato logicamente avevo una base che le persone potessero seguire perché avendo le capacità ecco di fantasia di messa a punto di tante cose andò in toscana in toscana dove ci sono degli amici di vecchia data appunto di ex colleghi che lavoravano questa azienda navale dice lucia sali sopra e appuntiamo un sito però prima dobbiamo vedere tu dove puoi essere diretta perché attraverso solo la passione tu puoi avere un exploit portai questi tre miei progetti ma mi tennero sotto una settimana e praticamente dissero che il gioiello faceva per me come si vede e praticamente è da lì è nata l'idea poi di sfociarmi nel gioiello stesso da lì ho fatto un corso di designer mi mancava solo quello perché marketing già ero addentrata ed è nato luce vitello gioielli di napoli all'inizio ero molto scettica non volevo il mio nome fatto combattuto con i miei consulenti del sito e perché volevo un nome di fantasia dedicato a napoli dedicato al vesuvio dedicato a sorrento ha dedicato a pompeio dedicata agli scavi non lo so qualsiasi cosa ma non a me perché io a mostrare dietro alle scene e da lì poi è nata la voglia e puntare su me stesso è stato proprio questo praticamente fra virgolette dico quest'altro passaggio lucia vitello per fare un gioiello si deve addentrare e deve essere un po psicologa per costruire un giallo sulla persona e così è nata la rubrica parliamone con lucia capire un po le persone dagli forza dagli un sorriso dagli una bella parola perché non è stato facile stati duri anni sapete quante porte chiuse non ve lo dico prove ed ero sola molte amiche sono andate via e niente e allora aggiorniamoci puntata per puntata e che vi parlerò un po di quello che penso io ok